Usando l'applicazione Quiz Patente Tradotto, che potete scaricare gratuitamente e installare sul vostro smartphone, consultandola in 102 lingue, sia per quanto riguarda i quiz, sia per quanto riguarda la teoria che è inclusa nella applicazione, andiamo a continuare l'analisi dei quiz per argomento, che sono i primi da affrontare rispetto alle schede d'esame a tempo. Per chi voglia sostenere il nostro canale, ricordiamo che è possibile abbonarsi a 99 centesimi al mese per il tempo che volete, dando così un contributo al nostro lavoro. Andiamo quindi ad analizzare nei segnali di indicazione, in modo specifico, i quiz relativi al segnale di identificazione strada statale. Prima naturalmente sentiamo cosa ha da dirci il nostro manuale su questo segnale. Il segnale identifica il tipo di strada percorsa. In questo caso, indica che la strada su cui viaggiamo è una strada statale E, precisamente, la strada statale N. 2. Si può trovare all'interno di un segnale di direzione o di bivio stradale, figure 166. È sbagliato dire che il segnale indica una strada sterrata non asfaltata. Il segnale raffigurato indica una strada senza uscita a due chilometri. Il segnale raffigurato indica una strada sterrata. SS, come abbiamo detto, è l'abbreviazione di strada statale, quindi la risposta al quiz è falso. Il segnale raffigurato si può trovare all'interno di un segnale di direzione o di bivio stradale. Il segnale raffigurato indica una strada stretta per due chilometri. Risposta corretta, falso. Il segnale raffigurato indica una strada senza segnaletica per due chilometri. Risposta corretta, falso. Il segnale raffigurato indica che stiamo percorrendo la strada statale numero 2. Risposta corretta, vero. Il segnale raffigurato indica il numero di piazzole di sosta. Risposta corretta, ovviamente, falso. Il segnale raffigurato indica il tipo e il numero di strada percorsa. Esattamente, si tratta di una strada statale e della strada statale numero 2. Ricordiamoci che una strada è definita come statale se attraversa almeno due diverse regioni. La risposta corretta, è vero. Il segnale raffigurato indica che la strada su cui viaggiamo è una strada statale. Risposta corretta, vero. Il segnale raffigurato indica una strada sdrucciolevole per due chilometri. Risposta corretta, falso. Possiamo controllare le nostre risposte nell'elenco finale. Se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per essere informati di ogni nuovo caricamento. Queste tre operazioni ci aiuteranno comunque a crescere di visibilità. Naturalmente, se avete qualche dubbio su qualcuno dei quiz analizzati in questo video, mettete un post e noi prontamente vi risponderemo. Arrivederci e buono studio.